Martedì 4 maggio in Puglia sono stati registrati 13.803 test per l'infezione da covid-19 e sono stati registrati 1.028 casi positivi, 317 in provincia di Bari, 105 in provincia di Brindisi, 140 nella provincia BAPT, 89 in provincia di Foggia, 196 in provincia di Lecce, 169 in provincia di Taranto, 8 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 34 decessi di cui 9 in provincia di Foggia. A Lucera scende a 267 il numero dei cittadini ancora contagiati dal virus, 46.620 sono i casi attualmente positivi di covid-19 in Puglia. Il sindaco di Foggia, Franco Landella, ha presentato le sue dimissioni nella giornata del 4 maggio dopo una lunga riunione con la maggioranza. È un periodo molto difficile per il comune di Foggia, interessato da problemi giudiziari che hanno investito alcuni rappresentanti della politica locale. La mia unica ambizione è stata sempre quella di servire Foggia. Oggi intendo dimostrarlo ulteriormente rimettendo il mio mandato di sindaco per consentire a tutte le forze politiche di essere compiutamente consapevoli della loro responsabilità, di aver cura delle urgenze e delle speranze della nostra comunità. Queste le parole del sindaco dimissionario che da agosto scorso lasciò Forza Italia per entrare nelle file della Lega Salvini. La permanenza della Puglia in zona arancione, mentre quasi tutto il resto dell'Italia in zona gialla sta influendo negativamente sulle prenotazioni negli agriturismi della regione e quanto denunciano Confagricoltura Puglia e Agritourist. Che proseguono? La Puglia sta perdendo centinaia di presenze turistiche italiane e straniere. I clienti nel dubbio stanno prenotando i mesi estivi in altre regioni d'Italia che reputano più sicure. Benvengano le iniziative mirate a cercare di recuperare presenze come quella del presidente della Commissione Turismo-Industria-Alberghiera del Consiglio regionale Francesco Paolicelli, che ha reso noto di aver chiesto un'audizione congiunta delle commissioni consigliari terza, quarta e sesta per definire modalità e tempistiche delle somministrazioni dei vaccini nelle aziende e alle imprese turistiche. Lo scopo è che la regione Puglia passi quanto prima anche alla vaccinazione delle categorie produttive. Il sindaco di Roseto Valfortore, Lucilla Parisi, ha espresso una opinione sulla comunità energetica locale, dichiarando che il comune di Roseto è entusiasta di partecipare come caso studio al progetto europeo CAMRES. Per questa opportunità l'amministrazione ha ringraziato di cuore Enea ed Equazioni che, fornendo le competenze tecnico-scientifiche per lo sviluppo e la gestione dell'energia, le comunità valuteranno i fattori trainanti, le barriere, gli aspetti legali e i modelli economici sul caso concreto di Roseto Valfortore, con l'obiettivo di individuare le scelte più adatte allo sviluppo della comunità energetica. La Parisi ha proseguito. La comunità energetica di Roseto, partecipata dai cittadini, imprese ed enti locali, nasce con l'obiettivo di valorizzare tutte le risorse del territorio e attraverso investimenti mirati, trattenere localmente i benefici creati dalle fonti energetiche rinnovabili. Grazie. 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 Grazie.